E' una situazione vergognosa in cui perde il nostro palazzetto Palabalco Il bar non esiste, qualcuno si sente male per una bottiglina d'acqua, devo chiedere ma basta che se Napoli se gli fa la cortesia oppure deve andare fuori Guardate, le luci che non ci sono Adesso andiamo a guardare nei bagni e vi devo fare vedere le condizioni igienico-sanitarie in cui perdono Al limite fa un freddo incredibile, qui le luci ci sono, almeno questo Sbagli che non ci sono, luci che non ci sono Qua, vediamo Tutto al buio, ovviamente Sbagliato 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 Finalmente hanno messo la luce Dopo i nostri reclami, almeno le luci sono state messe Ok, al prossimo video